Ci troviamo a Restinco, a pochi chilometri da Brindisi, davanti al centro di permanenza per il rimpatrio. Oggi ci sarebbe dovuta essere qui una ispezione da parte di una delegazione di tecnici della CGL che solitamente effettuano delle verifiche all'interno del CPR proprio per controllare le condizioni di vita sia degli ospiti dello stesso CPR che del personale impiegato all'interno. In questa occasione ci sarebbe dovuto essere anche l'onorevole Claudio Stefanazzi insieme alla delegazione della CGL. Il permesso è stato richiesto in tempo utile ma poi all'ultimo momento, pare su indicazione del ministro Piantedosi, questa visita è stata negata. Sostanzialmente la delegazione non potrà entrare nel CPR, non si comprende bene il motivo e ovviamente questo determina la protesta di chi avrebbe dovuto in qualche maniera assicurare che le condizioni all'interno del CPR sono quelle ideali e soprattutto quelle previste per legge. È abbastanza strano perché nel rispetto delle norme di legge io ho provveduto settimana scorsa a inoltrare una mail da mia prefettura indicando da chi sarei stato accompagnato, essenzialmente un mediatore culturale, un medico e un rappresentante di un'associazione. Dopodiché sabato mi è stato comunicato dalla prefettura che il Viminale aveva posto un rifiuto. e questo mi fa pensare che ci sia necessità, la voglia probabilmente di evitare che soggetti qualificati possano e quindi diciamo in grado di raccogliere informazioni più dettagliate possano accedere al centro. Adesso vedremo, io adesso entrerò in ogni caso anche se non consentiranno al resto della delegazione di entrare e cercherò di capire qual è la situazione. Certo che è inquietante. Oggi niente ingresso in questo CPL? Purtroppo no, nonostante abbiamo comunicato in tempi utili e nominativi, abbiamo chiesto tutte le autorizzazioni e quindi il fatto che è partito dal tavolo asilo nazionale che noi come organizzazione, come associazione, come social civile abbiamo il diritto di entrare e di verificare le condizioni di queste persone, anche perché non sono delinquenti, sono persone che non hanno commesso nessun reato, semplicemente sono trattenuti per essere espulsi perché il loro status che non hanno il permesso di soggiorno quindi non possono stare qui.